Pochi giorni fa era scattata la segnalazione via social che il litorale di Agropoli, compreso tra la torre di San Marco e Foce Solofrone, era invaso da bottiglie di plastica ed altro materiale, portato dalle mareggiate degli ultimi giorni. Allertato il sindaco Adamo Coppola e l'assessore all'ambiente Elvira Serra, si sono immediatamente attivati. Sabato mattina infatti gli operai della ditta Sarim, che gestisce l'igiene urbana in città, hanno provveduto a ripulire l'intero tratto di litorale che è tornato alla sua canonica bellezza, impedendo così che la plastica potesse tornare in mare con una successiva mareggiata. In poche ore quindi la sinergia tra cittadini e amministrazione comunale ha dato i suoi frutti. Dopo poche ore dalla segnalazione, spiegano il sindaco Adamo Coppola e il vice sindaco, nonché assessore all'ambiente Elvira Serra, ci siamo attivati, facendo ripulire il tratto di litorale invaso della plastica. Ci teniamo però a fare un appello a tutti i cittadini, facciamo una giusta raccolta differenziata e non gettiamo rifiuti nel mare, che ce li restituisce sotto forma di rifiuti, tal quale o microplastiche che, ingerite dai pesci, si ripresentano nel nostro menù quotidiano. Voler bene alla natura e all'ambiente significa tenere al futuro dei nostri figli.